benvenuti nella mia cucina oggi preparo la ciambella di pasqua al limone veloce e semplice da preparare ma soprattutto buonissima vi elenco quali sono gli ingredienti ma prima di cominciare vi ricordo di sostenere il mio canale per chi non lo avessi ancora fatto iscrivetevi attivate la campanella così sarete sempre avvisati quando posterò una nuova ricetta e se vi fa piacere alla fine del video se vi sarà piaciuta la ricetta condividetela con i vostri amici così anche loro potranno conoscerla ed in questo modo io potrò continuare a fare tante altre ricette insieme a voi ma adesso cominciamo subito la preparazione di questa buonissima ciambella per questa ciambella ci servono 380 grammi di farina 300 di zucchero 4 uova intere 230 ml di olio di girasole 280 ml di latte una bustina di lievito per dolci una bustina di vanillina la scorza di un limone e il succo di mezzo limone per prima cosa in un contenitore rompo le uova unisco lo zucchero la scorza di limone e la vanillina e comincio a sbattere con le fruste finché non avrò ottenuto un composto gonfio e sfumoso a questo punto unisco il succo di limone e l'olio e continuo a sbattere con le fruste unisco anche il latte e continuo a sbattere con le fruste adesso unisco la farina e la setaccio aggiungo anche il lievito e anche questo lo setaccio così da evitare che si formano i grumi e continuo ancora a sbattere con le fruste fino ad incorporare tutta la farina ottenendo così una bella crema liscia e gonfia prendo uno stampo per ciambella da 24 cm lo imburro e lo infarino e ci verso il composto e adesso va in forno statico 180 gradi per 40 minuti e nel frattempo che la ciambella si raffredda preparo la glassa per la glassa ci serve 120 g di zucchero a velo il succo di mezzo limone bello grosso e confetti colorati quanto basta in una ciotola d'acciaio metto lo zucchero a velo e il succo di limone lo aggiungo poco alla volta e comincio a sbattere con le fruste finché lo zucchero sarà diventato fondente e alla fine se ci accorgiamo che non lo è abbastanza aggiungiamo qualche altra goccia di succo di limone sono passati 40 minuti e la ciambella è pronta e solo dopo raffreddata ci verso sopra lo zucchero fondente al limone il risultato finale sarà quello di una ciambella soffice morbida e profumata ed infine la decoro con gli zuccherini colorati e adesso ne taglio qualche fetta per assaggiarla subito e sento che è sofficissima ed è così buona che non smetterei più di mangiarla questa ciambella al limone è davvero buonissima fatela anche voi e poi fatemi sapere cosa ne pensate io vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima ricetta ciao